Salve ragazzi, benvenuti al nuovo vlog di Anime & Mangaeta, io sono Falcus ed oggi parleremo di un prodotto di animazione alquanto bizzarro che mi ha fatto andare su tutte le furie e che troverete qui Stavo riscrivendo la sceneggiatura per il video che uscirà domani, credo, su Fairy Tail e mi sono trovato questo video davanti Precisamente gli admin della pagina me l'hanno fatto vedere Rimetto sempre qui Bene Diventa amico di Geova Che cos'è questa cosa? Questo è un modo per fottere il cervello dei bambini Questo è uno di quei prodotti animati veramente cancerogeni Quindi il signore che parla all'inizio e coloro che ci stanno dietro questo progetto hanno capito perfettamente la potenza di un cartone animato e l'hanno capito così tanto bene che praticamente vogliono inculcare in testa a dei bambini Una cosa improponibile Li vogliono manipolare a tutti gli effetti E che cosa fanno? Insegnano cos'è buono e cos'è sbagliato Insegnano cosa Geova vuole e cosa Geova non vuole Ma soprattutto insegnano a questi bambini a diventare dei testimoni di Geova Allora sappiamo perfettamente che i bambini nei primi anni della loro vita assumono dei comportamenti particolari in base all'ambiente in cui vivono Vi voglio dire un paio di cose E' un po' la base della genetica, della biologia Un carattere si manifesta non solo perché all'interno di noi c'è un DNA che ci dà delle informazioni ma l'espressione di qualsiasi nostro carattere avviene nell'ambiente in cui ci ritroviamo E quindi questa è un po' la base di alcune malattie Quando per esempio abbiamo un allele geneticamente modificato però in un ambiente che non lo induce alla sua produzione allora non si manifesterà il carattere nonostante sia geneticamente modificato La stessa cosa possiamo applicarla praticamente a qualsiasi altro elemento Un bambino che si trova in un ambiente in cui lo continuano a tartassare con delle opere del genere sicuramente uscirà un bambino che ha dei pregiudizi un bambino che sarà mentalmente instabile perché pensate c'è la scena del bambino che ha un fottuto giocattolo nelle mani un fottuto giocattolo nelle mani un mago una cosa normalissima per pensare per un bambino perché il bello di essere bambini è avere una fantasia enorme e poterle esprimere quasi al cento per cento la madre dice a questo bambino ma a Geova piace la magia la magia ora a prescindere dal fatto che Geova fa miracoli quindi magia o no è quella la cosa ma poi che significa? penso che questo video sia il male assoluto penso che chi sta dietro questo video sta male quanto un follo omicida perché manipolare la testa dei bambini è una cosa così ignobile è così brutta che sinceramente mi fa girare le palle sto facendo questo vlog così un po' velocemente un po' arrabbiato sinceramente pensare che ci sono delle persone che fanno vedere i propri figli una cosa del genere mi lascia abbastanza deluso dal fatto come la gente ancora non abbia capito che certe religioni certe sette in questo caso sfruttano la debolezza umana sfruttano la semplicità dei bambini per poter avere dei guadagni ricordiamoci che in queste sette girano migliaia di soldi bene non ho nient'altro da dirvi sono incazzato nero in questo momento devo fare il video di Fairy Tail sono le due e mezza di notte non credo che lo farò oggi lo farò domani perché se lo faccio oggi esce un video in cui mi incazzo pure con Fairy Tail alla prossima ciao